Un progetto, quello dell'ampliamento della clinica Bonvicini di Bolzano, nato quasi sette anni fa. Subito risultato sgradito ai residenti della zona che avviarono un'avvertenza legale di tipo urbanistico a fronte della quale la proprietà della struttura sanitaria cambiò a più riprese i propri piani, proprio per cercare di venire incontro a chi si lamentava. Non bastò e si finì innanzi al TAR che nel novembre del 2013 decise il blocco dei lavori. Un colpo pesante per la direzione della clinica che senza l'ampliamento rischiava concretamente di vedersi cancellata la convenzione con l'azienda sanitaria. 24 mesi dopo e con un blocco delle opere costato moltissimi soldi, il TAR ha respinto tutti e tre i ricorsi dei residenti e dato il via libera ai lavori. La soddisfazione è evidente in Casa Bonvicini dove si pensa già soprattutto a far ripartire il cantiere. Sì, siamo molto sereni, affrontiamo questo nuovo momento con una grande gioia perché il TAR finalmente ci ha dato ragione, ha respinto tutte le istanze dei vicini e quindi possiamo riprendere i lavori fin da gennaio. Non ci saranno spese maggiori per quanto riguarda il servizio sanitario pubblico e quindi crediamo di aver fatto la nostra parte nei confronti della cittadinanza e nei confronti di quello che siamo chiamati a fare per la popolazione di Bolzano. Come detto però i disagi patiti dalla proprietà della clinica a causa del blocco dei lavori sono stati molto pesanti. Ma un grosso stress, un grosso stress nostro, dei nostri collaboratori che hanno dovuto operare in questi due anni con dei disagi. Basti pensare che noi abbiamo dovuto interrompere i lavori dopo aver spostato il servizio cucina che avevamo proprio qui in Casa di Cura e operato con un catering, una cosa che è costata, che forse non ha fornito la qualità che ci aspettavamo, però siamo riusciti comunque a fornire un servizio dignitoso, però tanti disagi sono subentrati in questi due anni. Finalmente adesso possiamo pensare di operare, avere ancora dei disagi, ma vedere la fine del tunnel. Grazie.